Ciao a tutti, mi chiamo Luca Berinati e ho sempre voluto fare il pilota! Vivo a Genova e ho 18 anni e fin da quando ero veramente piccolo, solamente il suono di un'auto, l'odore di grasso, di un motore, di una macchina, l'odore di gomma, mi ha sempre fatto impazzire. Ho avuto alcune esperienze, come da piccolo ho iniziato a correre in minimoto, successivamente ho fatto un po' di karting, ma subito troncato per motivi economici. La prima volta che ho guidato da solo è stata all'età di 8 anni, la Volkswagen Passat di mio papà, con lui vicino logicamente. Ehm, che dire, ho sempre voluto fare il pilota, la mia ambizione è fare il pilota e finché non ci riuscirò non mi darò pace. Un anno fa circa ho avuto una piccola soddisfazione, sono riuscito finalmente ad andare in un autodromo vero, a Cremona San Martino del Lago e finalmente fare qualche giro con un'auto vera da corsa. Io sono un vero e proprio fanatico dei motori, mi piace sporcarmi le mani nei motori, guidare, tutto quello che riguarda un motore, le auto, le moto, tutto, basta che abbia un motore e delle ruote, a me fa impazzire. Make it your race è una grande possibilità per ragazzi giovani con una passione forte come la mia. Quello che io riesco a provare grazie ai motori è una sensazione indescrivibile e se ne avrò la possibilità vi farò vedere tutta la mia passione. Infine, spero di essere uno dei fortunati che farà parte del vostro grandioso team e di salire finalmente su una 500 Abarth. Ciao, make it your race!